Palmieri? No. Altri? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'articolo 7, perché il 6 è accantonato. Relatore, pareri? Chiedo scusa. 7,50. 7,50 contrario. 7,51 rondini contrario. 7,52 rondini contrario. 7,53 rondini contrario. Non segnalato. 7,60 sarro. Io sarei per un invito a ritiro al proponente, perché di fatto il meccanismo che propone è lo stesso che è presente nella legge. 7,54 secondi contrario. 7,61 sarro. Anche in questo caso chiederei al proponente la disponibilità per un invito a ritiro con conseguenze e ordine del giorno. Perché quando lui parla di situazioni eccezionali è un termine troppo generico, in quanto se riguardano le calamità c'è l'ordinamento a parte. Magari con un ordine del giorno si potrebbe entrare nel merito di questa proposta. Altrimenti parere contrario. 7,56 zaratti contrario. 7,55 rondini. Parere contrario. Andiamo anche all'aggiuntivo. 7,50. Caparini contrario. Perfetto. Onorevole rondini. Chi c'è lì davanti? Prego. Sì, grazie Presidente. Allora 7,50.